ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti di acqua e sapone sì ciao acqua e sapone non mi sponsorizza però ho fatto degli acquisti da acqua e sapone sto facendo i muscoli per questo lo sto tenendo perché ho volevo prendere alcune cose vi metterò ovviamente i vari prezzi perché non mi ricordo se lo scontrino è qua dentro nell'altro non mi ricordo aspettate che controllo qua non lo vedo comunque allora ho preso questa confezione di carta d'alluminio che serve per congelare conservare e fare le cotture invece a me serve per fare per mettere tipo alcuni alimenti che di solito mio marito si porta tipo quando va al magazzino scusate per quanto se ne va al magazzino e quindi ho acquistato la carta d'alluminio poi siccome a me viene da ridere quando ricevo certi commenti sinceramente tipo io compro una confezione di dentifricio e mi fa alcuni mi scrivono ma che ci fai con tutto questo dentifricio oppure compri per per un esercito cioè allora scusate voi non utilizzate il dentifricio siamo quattro in famiglia tutte quattro ci laviamo fortunatamente i denti quindi lo consumiamo quindi è normale che io acquisto una confezione di dentifricio così spesso perché noi lo consumiamo e vai questo è una frecciatina rivolta a chi ha scritto il commento allora ho preso questa confezione di azeta era 3 più 1 ovviamente uno era gratis che sarebbe questo ho preso questo normale non sinceramente non ho proprio mi piacciono sia z che gli altri non ho alcune preferenze questo sì queste mi piacciono a z mi piace fino a z ci posso arrivare gli altri un po meno comunque questo non ci troviamo bene abbiamo utilizzato colgate che anche quello io mi ci trovo bene quindi basta che lave i denti per me va bene anche il fatto di far vedere tanti bagnoschiuma sinceramente ci fa capire soltanto che ci si lava allora questo è per essere proprio schietti e sinceri è un bagno doccia dico bagno doccia proprio lo specifico perché a elisabetta r è stato detto di specificare se è un bagno doccia un bagno schiuma questo è un bagno doccia quindi si utilizza nella doccia no io lo utilizzo anche nella vasca non questo ma io il bagno schiuma bagno doccia lo utilizzo dove mi pare a me non è che mi interessa comunque questo è il bagno doccia per quanto riguarda i miei figli quindi tre uomini anche quello grande di 46 anni mio figlio mi piace tantissimo questo perché ha un odore che di freschezza simile al mio però questo si sente che maschile e mi piace mi piace perché io lo sento quando quando loro si lavano e fortunatamente anche loro si lavano mi piace mi piace tantissimo queste energie sport i miei figli fanno anche sport ma si lavora in automatico se fai sport o non fa sport comunque questo è ottimo per i prezzi o ve li metto in sovraimpressione oppure li trovate giù nell'info box poi per la gioia delle mie manine e per la gioia del mio faccione ho preso le saponette queste qui della neutro roberts a me piacciono tantissimo io mi ci trovo benissimo sono quattro confezioni di saponette c'è scritto con glicerina naturale senza parabeni sono 96 97 per cento ingredienti originali naturale e mi piace tantissimo io mi ci trovo bene con queste saponette io ne utilizzo una qui nel bagno sopra e una nel bagno sotto e mi ci trovo bene quindi prendo sempre queste sono una confezione di quattro dove una è gratis e regalo e per rimanere sempre nel reparto neutro roberts ho ripreso ovviamente lo shampoo perché ci laviamo i capelli tutte quattro sì ebbene sì ve lo devo dire ci laviamo i capelli tutte quattro e utilizziamo questo qui della neutro roberts dove c'è scritto uso frequente frequente cosa significa frequente sempre quindi ci laviamo i capelli ed è questo qui della neutro roberts eccetera eccetera ideale per tutta la famiglia infatti noi li utilizziamo e questo è il primo sa che tons ho preso un detersivo un detersivo un secchiello con un panno per lavare a terra perché l'ho visto da mia nipote brunella mi è piaciuto tantissimo io e la mia amica ci siamo andati in fissa e quindi l'abbiamo acquistato sia io che lei vi metterò la foto perché non ve lo faccio vedere perché già l'ho utilizzato quindi la composizione di come era fatto l'abbiamo strappata perché dovevamo pulire a terra dovevo pulire a terra e quindi l'ho già utilizzato andiamo alla seconda bustona per quanto riguarda acqua e sapone e ho preso sempre due cose per quanto riguarda l'ammorbidente c'era lo sconto sul coccolino e quindi l'ho voluto prendere questo è sandalo e caprifoglio del coccolino creation eccetera eccetera mi ci trovo bene sapete tutti che io faccio un cambio per quanto riguarda l'ammorbidente perché prima ne uso uno poi un altro poi un altro poi un altro devo assolutamente cambiare perché se mi abito al profumo mi dà troppo fastidio e quindi ho preso questo ed era scontato se non mi sbaglio a 99 non sono sicura ma dovrebbe essere a 99 non c'è lo scontrino vero no e perché devo tenere lo scontrino io comunque poi ho preso questa ricarica per quanto riguarda il sapone liquido io il sapone liquido lo tengo per le persone che vengono tipo che vanno in bagno che non sono della mia famiglia perché per me la saponetta è molto è molto personale diciamo ad esempio la mia che io utilizzo per lavare il mio viso io la metto in un altro contenitore questo qui il sapone lo utilizzo o per le persone che vengono e quindi automaticamente si lavano le mani con il sapone liquido quindi schiacciano il ciuffi ciuffi come lo chiamo io e si lavano le mani oppure quando i miei figli vengono che hanno portato a spasso a sanzone quindi toccano il cane tutto per non toccare la saponetta e mettere i germi ovviamente nella saponetta loro utilizzano il ciuffi ciuffi schiacciandolo con il gomito come il gomito ciao maria io esco questo sarebbe il gomito con il polso nel senso che loro schiacciano ovviamente mettendo la mano in questa maniera schiacciano il ciuffi ciuffi e quindi gli esce il sapone e si lavano le mani io sono molto maniacale per questo perché mi piace che loro si puliscono le mani ma in una forma bene perché se voi utilizzate la saponetta che noi utilizziamo per lavarci le mani i microbi rimangono sempre la quindi per quanto riguarda quando escono a sanzone oppure quando viene qualcuno di estraneo per me utilizzano benissimo il detergente diciamo liquido il sapore liquido e questo è della malca mill mille ed è una ricarica risparmio ed è al cocco e vaniglia ci sono due ricarico universale ecologici due litri sono due litri ed è questo e per finire volevo farvi vedere la mia fissa in questo periodo che sarebbe il detersivo per i piatti nessuno lavo i piatti come li lavo io sembra veramente certe volte mi sembra di lavorare in un ristorante di quando di quanti piatti lavo ho preso questi erano scontati se non mi sbaglio e ho preso lo svelto questo qui zenzero e limone sgrassa anche ad acqua fredda e io il mio scaldino per quanto riguarda il lavello della cucina faccio dieci piatti e già subito si raffredda l'acqua quindi una cosa che odio questo devo dire che mi piace assomiglia tantissimo alle tesane di zenzero che mi faccio veramente molto molto buono devo provarlo se simile e quindi ho preso questo lo svelto mi piace come marca io ho utilizzato anche gli altri odori questo mi piace tantissimo basta che non ci sia proprio il limone oppure l'aceto che quello no non mi piace e poi ho preso questo qui di questa marca che non conosco anche questo era scontato si chiama feeling piatti concentrato all'aceto allora io quando l'ho sentito quando ho visto la scritta ho detto no all'aceto così non mi piace assolutamente poi ho sentito l'odore che adesso sentirò di nuovo per farvelo capire ed ha un odore di caramelle gommose avete presente quando ho fatto un ordine da makilala maki beauty vi regalano le caramelline aribo quelle caramelline tipo zucchero zuccherate allo stesso odore se avete se mamma mia buonissimo se avete problemi per quanto riguarda tipo odori e tutto questo sa di caramelline gommose questo invece sa di tè di tè allo zenzero e limone quindi è ottimo mi piace molto comunque devo dire che mi piacciono tutte e due sono tutte e due concentrati se non mi sbaglio se non mi sbaglio si in base anche alla se dovrebbero essere concentrati comunque io sto ancora trovato cercando anzi sto ancora cercando il mio detersivo per i piatti ottimo che mi sgrassi i piatti e tutto perché li vado cambiando cambiando come come gli ammorbidenti o se se sto con un profumo io poi cioè io cambio tutto tranne il mio profumo cioè non lo so comunque per quanto riguarda questo video è tutto io e il mio reparto detersivi e cura della persona perché bene sì noi ci curiamo ve lo proprio ve lo scrivo a lettere cupitali vi salutiamo aspetto ovviamente i vostri commenti sia belli che brutti ma ovviamente dovete essere ovviamente dovete essere educati avete risposto bene io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao